la parola e e la parola e vediamo iniziamo la e è una condunzione e la puoi utilizzare per unire a un suono e mentre e con l'accento diventa verbo ed è il verbo essere io sono tu sei lui è io sono tu sei lui o lei è verbo essere senza accento congiunzione e quindi dirò io e te oppure pane e prosciutto per un panino alla prossima